Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Elisabeth Le Manna. Vi do il benvenuto a questo culto. Ci troviamo nel Tempio del Chabas, che è uno dei templi più antichi della Chiesa Valdese. Vogliamo raccoglierci alla presenza di Dio. Dio senza confini. Tu sei un Dio non solo per il qui e ora. Dio senza confini. Tu sei un Dio per tutti e tutte, nei momenti difficili come in quelli piacevoli. Ti vogliamo adorare in spirito e verità, non solo confinato al qui e ora. Amen. Leggiamo dal Salmo 95. Venite, cantiamo con gioia al Signore. Acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Signore, Dio nostro, tu sei la roccia della nostra salvezza, una roccia stabile e forte e su di te possiamo contare. Signore, Dio nostro, dalla tua roccia sgorga acqua viva per le nostre vite. Tu ci inviti a bere dalla tua sorgente per trovare amore e guarigione per le nostre vite. veniamo a te per dissetarci alla fonte della tua misericordia. Ispiraci con il tuo spirito, guidaci con la tua mano, sostienici giorno per giorno. Nel nome di Gesù. Amen. F Elmo chiamare coi nei posti di conteni e coordinare, insegnare questo Dio e ben mantenere con Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.